L'obiettivo è che quando il paziente sorride si vedano i denti, non posso neanche dire un po' di gengiva perché questo dipende dall'età. Un altro fattore da considerare è che i sipari, le labbra, soprattutto il labbro superiore, non ha la stessa lunghezza su tutte le persone. Ci sono persone che hanno la pelle tonica e persone che hanno la pelle cadente. Dipende dallo spessore della pelle, dalla tonicità, dall'età, dal tipo di collagene che è una persona. Ma in generale ci sono delle persone che hanno labbra più carnose, labbra sottili, labbra sottiliato. Allora in quel caso anche devi capire se è un labbro sottile o se è un labbro corto perché cambiano poi i tipi di trattamento. Se è un labbro sottile devo fare il filler. Se è un labbro invece corto posso anche addirittura arrivare a mettere due punti di sutura. Si fa una piccola chirurgia dove il labbro praticamente lo cuci qualche millimetro più in giù. Questo si fa per esempio sul labbro ipermobile. Delle volte si fa la tossinobotulinica oppure proprio si cuce. Si 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 fa. È un intervento molto semplice. Molto semplice. Si mostra tutta giù. Poi la gengiva non è una cosa brutta da vedere. La gengiva anzi la verità è bella da vedere. È quello che dà poi la salute, la naturalezza, la vista del sorriso. Infatti il parametro d'eccellenza proprio del sorriso bello dove cambia a dire il vero. Se tu vai in Nord America non si deve vedere la gengiva. Se tu vai in Europa se ne deve vedere un pelino. Se vai in Sud America in Brasile c'è il sorriso gengivale di almeno 3-4 millimetri. È alto tanto il mio. Dipende dalla situazione di partenza. Ok ricordatevi che questa valutazione vi ho detto va fatta prima. Perché se io ho un sorriso, una mascella, un osso che è molto lungo vado a fratturarlo ma anche a accorciarlo. Se invece ho un osso della giusta lunghezza ok vado a fratturarlo ma rimetto le viti della stessa lunghezza poi è il femore dopo. Ok. Grazie. Grazie.